Ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video che oggi è praticamente è un play perché devo provare il mio S7 dopo averlo portato in assistenza perché aveva un problema alla fotocamera in pratica quando facciamo un video veniva tutto tremolante e quindi vediamo un po' se hanno risolto il problema quindi da ora in poi registro con l'S7 Pineta di Montecatini Terme Vediamo un po' io mentre cammino com'è la stabilizzazione e se hanno risolto quel fastidioso problema Qualche volta mi sembra che l'immagine non segua la mia mano Andiamo un po' contro sole Qui c'è degli scalini che io da quando sono nato non l'ho mai fatti quindi le proviamo a fare adesso Allora Ok Cioè ci credete che da quando vivo qui a Monte Cassini In pratica io qua non ci sono mai venuto, questo tratto di strada mai, di solito là sotto sì, ma qui mai, buona che si stesse questo pezzo Vediamo un po' come si comporta Facciamo uno zoom sopra il piccione Perfetto Ora sono le 15.41, non l'ha messo neanche a fuoco, vabbè, però si è visto Certo, abituato a portare in mano sempre la ricamera, il cellulare pesa Perfetto Quante piccione c'è? E con questa bellissima cornice Firmata la torretta Concludiamo questo play girato da S7 Edge A 1080p a 60fps Perfetto 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 Perfetto